Il caldo si sente, si percepisce, però l'entusiasmo è alto. Veniamo da un finale di stagione fantastico e dobbiamo cercare di tenerlo alto e di sfruttare questo entusiasmo per allenarci al meglio e andare forte per prepararci alla stagione. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso è stato fantastico, però da quest'anno bisogna riazzerare tutto per pensare che è una nuova stagione, che nessuno ci regala niente come è sempre stato così, quindi dobbiamo ripartire da zero, risettare tutto e di nuovo lavorare tanto. Sì, ho fatto un percorso di crescita insieme alla squadra, dal campionato vinto in Serie B alla salvezza dell'anno scorso, quindi sono contento di riniziare questa stagione per fare un ulteriore step per migliorarmi ancora. Vi aspettiamo calorosi e numerosi alle partite in casa per sostenere la squadra e fare una grande stagione con l'incrotone, tifo solo te. Grazie. 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 Grazie.